Proseguono senza sosta le ricerche di Giovanni Costanzo, comandante del peschereccio Santo Primo, affondato martedì scorso per cause ancora da accertare al largo di Portopalo di Capopassero in provincia di Siracusa. In due sono riusciti a salvarsi aggrappandosi a delle tavole di legno e si trovano ora all'ospedale Trigona di Noto. La marineria ha informato in merito alla predominanza di venti e correnti in quella zona di mare, dove spesso si generano correnti con moti variabili. L'imbarcazione si trovava a circa 10 miglia dalla costa siracusana quando ha cominciato a prendere acqua ed è affondata ad una profondità di 60 metri. Nelle ricerche sono impegnate unità navali e mezzi aerei del secondo nucleo della Capitaneria di Porto di Catania, che non hanno mai interrotto le ricerche neanche nella notte, quando un'ulteriore motovedetta di Pozzallo ha raggiunto l'area per dare un contributo. Ogni mezzo ha affidato un'area e uno schema di ricerca.